Canta l'Italia 2020. Sono Fulvio da Cairo Montenotte, Savona. Innanzitutto volevo ringraziare una grande amica e grande professionista, il soprano Daniela Tessore e tutto lo staff per il grande lavoro svolto in modo magistrale. Vi leggerò poche righe ma significative. Ama e fa ciò che vuoi. Dunque una volta per tutte vi viene proposto un breve precetto. Ama e fa ciò che vuoi. Se tu taci, taci per amore. Se tu parli, parla per amore. Se tu correggi, correggi per amore. Se tu perdoni, perdona per amore. Sia in te la radice dell'amore e da questa radice non può che derivare se non il bene. Fare ciò che si vuole in questo periodo è un po' problematico. Comunque, se siamo consapevoli e rispettosi verso noi stessi e gli altri, certamente ne usciremo. Forza ce la faremo. Ciao. 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 Grazie.